Il primo annuncio dell'Arezzo che verrà riguarda forse il suo talento più rappresentativo a livello giovanile, Cristian Sussi classe 2001 entra a far parte ufficialmente dell'organico della prima squadra maranto. Il calciatore Aretino ha firmato con la società un contratto triennale in coscadenza 30 giugno 2022. L'Arezzo, si dice in un comunicato, si augura che possa essere solo l'inizio di una valorizzazione dei propri migliori giovani e che possano approdare dal settore giovanile alla prima squadra sempre più calciatori. E allora ne approfittiamo per rivedere qualche prodezza di Sussi, tra cui gli assist nell'ultima gara giocata contro il Catania nel ritorno dei play-off. Sussi, parte il cross, Finocchi, la palla è entrata, la palla è entrata, L'Arezzo ha pareggiato. Di Matteo, Sussi, lascia andare, Sussi che entra benissimo, bellissima serpentina, morbido per Caselli, gol! Ha segnato Caselli, la palla che è passata sotto al corpo del portiere e L'Arezzo accorcia le distanze. Siamo 2-3 adesso. Comunque ha fatto una giocata splendida Sussi, un grandissimo a fondo dentro l'area di Grigore, una di quelle serpentine delle sue. Di Matteo cerca il pallone buono per Sussi, ottimo lo stop. Sussi prova a saltare, ce la fa Cucuzza, conclusione a porta vuota Minocci per il pareggio dell'Arezzo, 3-3.